A nome di milioni di italiani la Lega chiede al governo stop autocertificazioni, basta con la burocrazia. In 52 giorni di chiusura gli italiani si sono dimostrati rispettosi, educati, dignitosi e generosi. Hanno compilato più di 10 milioni di moduli di autocertificazione. Adesso è ora che lo Stato torni a dare fiducia a un popolo che si è dimostrato grande e solidale. È ora che polizia e carabinieri possano tornare a seguire i delinquenti veri e non coloro che escono per fare la spesa o per fare due passi. Fiducia ai cittadini si riparte eliminando, azzerando moduli, cartacce, burocrazia e autocertificazioni.